comunque capite il genio di renzi no lui le gomitate cazzo le programma con mesi d'anticipo ma non solo nei confronti di calenda è idem fuori dal copa sir dopo l'addio di borghi ora si dimetta e lui no borghi si è dimesso dal pd ma non si dimette dal copa sir che è la commissione che controlla i servizi segreti dove era stato nominato dal pd quindi ora renzi con un partito al 2 per cento a due membri nel copa sir e il pd che ha il 20 per cento ne ha solo uno lorenzo guerini che però è renziano capolavoro è inutile dire che il mio mito resta lui dibba dibba ragazzi credete mi è uno che almeno è fuori da questi possiamo chiamarli intrallazzi della politica perché com'è possibile che fra 450 milioni di cittadini europei abbiano scelto proprio lui per fare di mai ha inviato nel golfo persico come mai come ha fatto di mai a diventare inviato nel golfo non di napoli ma in quello persico che per di maio il persico tra l'altro lo vive così lui è capito cioè ma come ha fatto come ha fatto ue mario draghi indicò a borrell il nome di di maio ma è stato marione ecco cosa c'era scritto nella famosa agenda draghi sistemare di maio ecco perché di maio ha spaccato i 5 stelle per salvare il governo draghi ecco perché lo ha fatto perché si è sistemato prima di tutto ma tu pensa la strana strana traiettoria di sti due di maio e dibba erano partiti insieme erano i figli prediletti del movimento poi uno ha fatto il vice premier il ministro del lavoro e il ministro degli esteri ora è nel golfo invece l'altro sono dieci anni che fa l'erasmus come scrittore come faligname come giornalista come barista e ora con tutta questa esperienza fa l'ondicesimo anno di erasmus con di battista presenta schierarsi schierarsi è un'associazione dove si vedono un po di gente una quarantina per volta più o meno come un'assemblea di condominio però invece che parlare di come cambiare il citofono discutono su come cambiare il mondo ma anche buonasera a tutti